in collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better. Buonasera, buonasera a tutti voi, cari amici, cari amiche di Angoli. Grazie per essere con me. Stiamo chiudendo un'altra lunga e interessante settimana che abbiamo trascorsa insieme, venerdì sera. E come sempre, prima di andare a chiacchierare con gli ospiti, io vi ricordo la nostra mail. L'invito è sempre quello, continuate a scriverci anche durante il weekend, la mail è angoli-espansionetv.it ed è un venerdì sera nel quale daremo tanti appuntamenti. Il primo viene lanciato proprio dall'ospite che è finalmente in presenza e qui per chiacchierare con me. Io sono molto felice di avere Noemi Serrano. Ciao Noemi. Grazie dell'invito, ciao Dolore. Era ora di rivedersi in presenza perché, giustamente come mi dicevi poco fa, prima di iniziare a chiacchierare, c'è bisogno di ripartire perché anche la musica, l'arte, la cultura ne ha bisogno, è vero? Certo, certo. C'è una grande necessità di ripartire, ma è una necessità sociale. È la società che ha bisogno della cultura. Naturalmente, dici molto bene, ma continueremo a chiacchierare non solo con Noemi, che è qui con me in studio, ma anche con un altro ospite, che invece è collegato via Skype. E io ritrovo con altrettanto piacere anche Stefano Nigro. Ciao Stefano, ben ritrovato. Ciao Dolores, buonasera a te e a tutti gli amici di Angoli. La vostra presenza qui in studio è un'ottima occasione, come ho detto, per lanciare un appuntamento. Stefano, ne vuoi parlare tu perché siamo proprio a ridosso, è vero? Esattamente, proprio domani, quindi sabato 25 settembre, presso l'auditorium di San Fermo della Battaglia, alle ore 17, andrà in scena Discepoli del Barocco, che è il concerto che chiude gli eventi di settembre e di Settembre Classico. Un concerto, come si può facilmente dedurre dal titolo, dedicato alla musica barocca. Io sarò il direttore d'orchestra, il direttore dell'orchestra Settembre Classico, e avremo un programma molto vario, che spazierà da Johann Sebastian Bach a Carl Philipp Emanuel Bach, suo figlio, per arrivare a Vivaldi. Avremo vari ospiti, tra i quali il giovanissimo pianista francese Cosme Parolet, allievo di Noemi Serrano, e i solisti dell'orchestra Settembre Classico, l'oboista Alberto Melgrati e la fagottista Anna Maria Barbaglia. Sono grandi nomi per un grande appuntamento che ci riporta a pieno all'interno di quella musica che davvero ci accresce anche l'anima, è vero Noemi? Certo, certo. Noi abbiamo pensato questo anno a una stadione di rinascita, e questo è un concerto dedicato al barocco, ma in generale la stadione è dedicata al classicismo, e quindi a tutti gli ideali che hanno a che vedere con il positivismo, con l'illuminismo, che sono ideali in cui a Stefano e io crediamo moltissimo, e che siamo sicurissimi che bisogna più che mai aggrapparsi a questo, alla virtù, al coraggio, alla fede nell'uomo per superare le difficoltà in momenti di buio. Non è una scelta casuale, quindi vuole essere anche uno slogan della ripresa. Assolutamente, assolutamente. Noi crediamo nei classici per ripartire, ci ancoriamo noi stessi, anche personalmente, a loro ogni giorno per cercare di vedere la luce alla fine di questo tunnel. È stato un periodo difficile, quello nel quale le tue dita non hanno potuto correre sulla tua amatissima tastiera, se non altro davanti al pubblico, perché sicuramente hai continuato a farlo, per tuo conto, ma il pubblico è importante. Il pubblico è fondamentale, il pubblico è tutto, non è solo importante, è tutto. Questo lavoro si fa per loro, per voi. E quindi a noi ci è stata privata la possibilità di comunicare, questo è stato molto difficile, molto doloroso, e sicuramente anche avrà conseguenze nel futuro. Noi crediamo tantissimo nella divulgazione, nel trasmettere questa tradizione musicale, crediamo che sia la nostra responsabilità, ed è per questo che ci adopereremo fino all'ultimo giorno, anche da casa, anche online. Però la musica classica non può morire, è un'eredità troppo grande, troppo importante, piena di tanti concetti, di tanti ideali che sono fondamentali. E' una nostra storia, comunque l'Europa è l'intrisa di questa grande musica classica, e i grandi autori arrivano da tutte le nazioni. Assolutamente. Noemi, dopo l'appuntamento di domani, che Stefano ci ha già anticipato, che cosa accadrà? Avete già altri progetti? Inizierà la Stagione Sinfonica. Innanzitutto terremo un concerto fuori Stagione, perché come sapete settembre classico ha la Stagione proprio a San Fermo della Battaglia. Il 23 ottobre terrà luogo un concerto al Teatro di Saronno, e dopo inizierà proprio la Stagione a San Fermo. È il 21 novembre, il 23 gennaio e finiremo il 13 marzo. Quindi, Stagione Sinfonica, con la presenza dell'orchestra completa, con i fiati, e dedicata interamente al classicismo. Quindi Mozart, Haydn e Beethoven come compositori in cui ci concentreremo. Appunto per prendere questi ideali in cui loro credevano tanto e questo amore per la vita e condividerlo con le persone. Quindi bisogna combattere per ritornare a questa vita che c'è tanto preziosa. Stefano, però torno anche da te, perché in veste di direttore d'orchestra, Noemi ci ha detto bene, una stagione sinfonica importante, l'orchestra e via dicendo, in un repertorio così straordinariamente significativo, quali saranno le difficoltà che tu, in veste di direttore, e insomma con tutti gli altri maestri dovrete affrontare, visto che si tratta, come Noemi dice, comunque di una battaglia per ritornare e riconquistare la libertà. Guarda, le difficoltà di questa stagione consistono nel fatto che il linguaggio che affronteremo, che è quello del classicismo e anche un po' quello di domani del barocco, è un linguaggio puro e quindi talvolta anche semplice e richiede una grande pulizia, una grande abilità tecnica nel far risaltare la semplicità e la purezza di questo linguaggio. Quindi non avremo magari grandi artifici tecnici ai quali aggrapparci, ma dovremmo essere bravi a ritrovare noi stessi in questa semplicità e a farla risaltare nel massimo della sua limpidezza. Nel senso però riconquistare la semplicità può essere anche non semplicissimo perché bisogna essere basici, puliti e arrivare senza sfronzoli e quindi bisogna proprio dare tutto, è vero? Esatto, quella è la difficoltà, quella è la grande difficoltà. Essere semplici, essere puliti e lasciare che la grande musica nasca. E infatti Noemi diceva mentre parlavo con te è molto difficile, qual è il tuo commento su questo obiettivo? Certo, tornare alla semplicità, la semplicità è difficile, no? Soprattutto in questo momento e tornare, io direi anche molto difficile, tornare all'entusiasmo che questi compositori provavano per la vita, loro hanno vissuto un momento glorioso, no? E quindi noi vogliamo tornare a questo entusiasmo, ci aggrappiamo a loro, no? Noemi, l'entusiasmo spesso è quello dei più piccoli, quello dei bambini. Certo. E so che c'è qualche cosa che richiama loro nell'ambito di questa stagione, è vero? Certo, una delle idee fondamentali del festival è stato lasciare alla mia classe di pianoforte, io sono una maestra molto fortunata, ho allievi molto bravi, e lasciare l'opportunità di performare in luoghi prestigiosi, no? E quindi loro hanno un'attiva partecipazione al concerto di domani, si virà Cosme Parole, che come diceva Stefano, un mio allievo francese bravissimo, che ha preparato questo concerto di Bach online. E quindi io devo dire che grazie a loro che hanno continuato con questo impegno, che non hanno molato neanche un giorno, e spero che sarà l'eredità che lasciamo a loro, ecco. E questa è una cosa importante che dici, perché se è vero che questa situazione ci ha allontanati, ha creato momenti di complicazione, anche per esempio come tu dici nell'ambito delle performance musicali e pianistiche, però un piccolo come quello che tu hai citato poco fa ha avuto la forza, è andato avanti, si è preparato, affronterà un grande momento. A undici anni voglio dire, a undici anni, undici anni concerto i Bach in me maggiore, quindi una grande sfida per lui. Ma da insegnante come si vivono queste scoperte? Perché secondo me sono anche scoperte, vedere che ci sono dei piccoli che si appassionano, che non mollano e che arrivano al risultato. È una gioia molto grande, quasi indescrivibile, è pari a quella di suonare per me, no? Io mi sento sia maestra che sia pianista e sapere che loro appunto hanno questa passione, nutrono questa passione e la fanno crescere negli anni è importante, anche perché loro sono il futuro. Loro sono assolutamente il futuro. Stefano, l'ultima battuta prima di salutarci. Vogliamo ricordare quindi l'importanza della musica classica, soprattutto anche per la nostra formazione come persone? Assolutamente sì. La musica deve essere una parte attiva della nostra vita e la bellezza di questa disciplina unica è che si può approcciare da tutte le angolazioni, come uditori, come ascoltatori, andando a un concerto, facendola in prima persona, facendola in forma cosiddetta amatoriale o in forma professionistica. Insomma, la musica è un qualcosa al quale tutti devono poter avere accesso ed è una disciplina fondamentale per la nostra vita, soprattutto in un momento come questo, come avete ben detto appena voi. Sicuramente una grande fonte di entusiasmo alla quale ora ci dobbiamo aggrappare per riuscire a riconquistare a pieno la nostra vita. Noemi, allora, ricordiamo davvero telegraficamente l'appuntamento di domani. Domani, ore 17, Auditorium di San Fermo della Battaglia, Discepoli del Barocco, con Cosme Parolet, solisti dell'Orchestra Settembre Classico, l'Orchestra Settembre Classico diretta dal maestro Nigro. Naturalmente sì, io saluto il maestro Stefano Nigro che è stato con noi, c'è Stefano alla prossima, saluto e abbraccio virtualmente, ma sai che l'abbraccio è fortissimo, anche Noemi Serrano per essere stata con me, io ti aspetto davvero ogni volta che vorrai parlare di musica. Grazie mille, Dolores, di questo spazio. Grazie. Grazie, grazie a voi e prima di andare in pubblicità però vi ricordo che ci sarà anche un altro appuntamento molto diverso, ma altrettanto simpatico e interessante durante il weekend, perché la Compagnia del Castello andrà a presentare la Sagra del Castello, è una nona edizione, ci si calerà appunto con storie e leggende nel passato, nell'epoca medievale e quindi sarà comunque un'altra occasione per condividere soprattutto con le famiglie. Bene, allora detto questo c'è un attimino brevissimo di pubblicità e poi torniamo insieme.